Leonardo SD. Del realismo degli obiettivi, dell'andamento del ciclo economico, della specificità delle situazioni e condizioni concrete di un Paese e anche di Paesi ritenuti ampiamente solventi. Seconda affermazione. L'operazione LTRO è rischiosa e intelligente al tempo stesso. Tuttavia non sarà sufficiente a scongiurare il deleveraging delle banche, si veda il recente Global Financial Stability Report, in una situazione di crisi del mercato interbancario. Sarà quindi necessario trovare nuove risposte e avanzare nuove proposte da parte della BCE e del sistema delle banche centrali per affrontare questo problema. Terza ed ultima affermazione. Dobbiamo rilanciare una visione a lungo termine dell'Europa. In questa visione deve esserci spazio per un nuovo ruolo della BCE con un mandato più ampio al fine di condividere la responsabilità della politica e della governance economica. Se lei è d'accordo con tutte e tre queste affermazioni, guadagniamo tempo e io mi dichiarerò totalmente soddisfatto. Grazie. Sono d'accordo al 50%, come diceva un famoso allenatore. La prima cosa è sul consolidamento fiscale. Un consolidamento fiscale attuato esclusivamente sulla base di un aumento di tasse è sicuramente recessivo. Idealmente il consolidamento fiscale dovrebbe essere attuato sulla base della riduzione di spese correnti e tra queste ovviamente quelle più improduttive. Quindi non ridurre le spese per infrastrutture, le spese per investimento, ma ridurre le spese correnti e non centrarlo sulle tasse. Quello che succede è che spesso in condizioni di urgenza, in condizioni di estrema tensione, si aumentano le tasse. Perché questo? Perché è più facile aumentare le tasse che ridurre le spese. Ed è più facile ridurre le spese in conto capitale che ridurre le spese correnti. Questo è quello che stiamo vedendo. Quindi parte degli effetti recessivi dipendono anche dal modo in cui il consolidamento fiscale viene attuato. Sul deleveraging delle banche, ricordiamoci che ci sono alcune situazioni bancarie in alcuni paesi dell'area dell'euro che devono fare il deleveraging perché hanno accumulato una quantità di asset o di investimenti sbagliati che pesano sul loro bilancio e immobilizzano la loro attività. Quindi devono per forza liquidarli. Allora, quello che l'operazione di LTRO ha permesso ha dato spazio per poter fare questa liquidazione di asset in tempi ragionevoli, senza generare una caduta dei prezzi e quindi ulteriori perdite nei bilanci delle banche. Ha permesso, in altre parole, di nuovo ho detto, di acquistare tempo, di guadagnare tempo nel far questo. Ma il deleveraging in parte deve avvenire. La BCE non può sostituirsi a queste azioni. Queste azioni devono essere intraprese. Quindi allora sì che avrebbero ragione quelli che dicono che la BCE aiuta le banche zombie a sopravvivere quando non ci sono le condizioni perché esse sopravvivano. Questo...